Un eccezionale ritrovamento a Pompei. Gli archeologi hanno recuperato un affresco che ritrae il mito di Leda e il Cigno. Lo vedete, un dipinto sensuale ricco di colori. Ada De Santis. Ancora un'immagine femminile che riaffiora dai nuovi scavi della Reggio Quinta. Sulle pareti di una camera da letto, emersa durante i lavori di messa in sicurezza, la rappresentazione del mito di Leda e il Cigno. Un dipinto sensuale, ricco di colori e sfumature, intatto il tradizionale rosso pompeiano. Altissima la qualità esecutiva, da cui l'ipotesi che il proprietario di questa domus fosse una persona facoltosa. Un ritrovamento importante e unico, spiega il direttore del parco archeologico Massimo Osanna, proprio per l'iconografia esplista che raffigura Leda, regina di Sparta, in un rapporto con Giove che pur di averla si è trasformato in Cigno. Nella stessa casa, nei mesi scorsi, erano stati scoperti altri e freschi. Questa zona di Pompei, in cui sono in corso gli scavi finanziati con i fondi europei del grande progetto, continua a restituire i capolavori dell'antica città romana.